Si parla di Cremona nel Regno Unito, ma al centro dell'attenzione della stampa britannica non sono finiti i violini o il po', bensì l'inquinamento, in particolare di un piccolo comune di 600 abitanti, Crotta d'Adda. Poco meno di due settimane fa l'area Crotta è diventata irrespirabile a causa delle esalazioni maleodoranti dei fanghi, presumibilmente tossici, sparsi nei campi, che hanno costretto gli abitanti a chiudersi in casa e a patire di irritazioni a gola, occhi e naso, come ci avevano testimoniato. Noi stiamo respirando queste sostanze che loro dicono che non siano tossiche, ma sono piuttosto pesanti da respirare. All'interno delle case l'abbiamo, sui nostri vestiti, cioè sta diventando veramente una situazione invivibile. Essendo 20 anni che va amata in questa pratica, qua un giorno le falde saranno inquinate. De Garrian scrive anche che più di un terzo delle persone che vivono nella Valle Padane, nelle aree circostanti, ha respirato aria quattro volte il limite delle linee guida dell'OMS per il particolato più pericoloso nell'aria. Crimona, città con 60.000 residenti, è emersa come una delle città con la peggiore qualità dell'aria in Europa in una classifica pubblicata quest'anno dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Una situazione che come testimoniano studi e classifiche internazionali, e nonostante si attenda ancora uno studio epidemiologico, è nota da tempo. Adesso l'intervista del guardia relativa allo spargimento dei fanghi, agli allevamenti intensivi, zona corta d'Adda, proprio le esalazioni odorifere che provocava, ma anche di questo. Cremona siamo mondo a parte, siamo ignorate, i cremonesi vengono tenuti un po' all'oscuro di quello che succede e per informarsi dobbiamo andare a leggere il guardia. È così, ci sono tanti morti per inquinamento, tante patologie respiratorie, tante leucemie, viene accettata la situazione così com'è.